vita nova di dante alighieri questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correvano per vedere lei onde mirabile letizia me ne giugnea nel cuore e quando ella fosse presso d'alcuno tanta onestà giugnea nel cuore di quello che non ardia di levare gli occhi né di rispondere al suo saluto e di questo molti siccome esperti mi potrebbono testimoniare a chi non lo credesse ella coronata e vestita d'umiltà sandava nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e udia diceano molti poiché passata era questa non è femmina anzi è dei bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una maraviglia che benedetto sia lo signore che si mirabilemente sa operare io dico che ella si mostrava si gentile e si piena di tutti di piaceri che quelli che l'ammiravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e suave tanto che ridire non lo sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che nel principio non convenisse sospirare queste più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò volendo ripigliare lo stilo della sua loda proposi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la poteano sensibilemente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere allora dissi questo sonetto tanto gentile tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando della altrui saluta cogne lingua deve intremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova e par che della sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira questo sonetto e si piano ad intendere per quello che narrato è dinanzi che non ha bisogno ad alcuna divisione e però lasciando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erano onorate e laudate molte onde io veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea proposi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vede perfettamente ogni salute lo quale narra di lei come la sua virtute s'adoperava nell'altre siccome appare nella sua divisione vede perfettamente ogni salute chi la mia donna tra le donne vede quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a dio render mercede e sua beltate e di tanta virtute che nulla invidia all'altre ne procede anzi le face andar seco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa ogni cosa umile e non fa sola se parer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli acti suoi tanto gentile che nessun la si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto a tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico siccome era graziosa la sua compagnia nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operava in altrui la seconda parte comincia quivi quelle che vanno la terza quivi e sua beltate questa ultima parte si divide in tre nella prima dico quello che operava nelle donne cioè per loro medesime nella seconda dico quello che operava in loro per altrui nella terza dico come non solamente delle donne ma in tutte le persone non solamente nella sua presenza ma ricordandosi di lei mirabilemente operava la seconda comincia quivi la vista la terza quivi ed è negli acti contro questo adversario della ragione si levoe un die quasi nell'ora della nona una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa beatrice con quelle vestimenta sanguigne con le quali apparve prima agli occhi miei e pareami giovane insimile etade in quale prima la vidi allora cominciai a pensare di lei e ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui civilmente s'avea lasciato possedere alquanti die contro la costanzia della ragione e discacciato questo cotale malvagio desiderio si rivolsero tutti i miei pensamenti alla loro gentilissima beatrice e dico che dall'ora innanzi cominciai a pensare di lei si con tutto lo vergognoso cuore che li sospiri manifestavano ciò mille volte però che quasi tutti diceano per loro uscire quello che nel cuore si ragionava cioè lo nome di quella gentilissima e come si partìo da noi e molte volte avvenia che tanto dolore avea in sé alcuno pensiero che io dimenticava lui e la dov'io era per questo raccendimento dei sospiri si raccese lo sollenato lagrimare in guisa che gli miei occhi pareano due cose che desiderassero pur di piangere e spesso avenia che per lo lungo continuare del pianto d'intorno a loro si facea uno colore purpureo lo quale sole apparire per alcuno martirio che altrui riceva onde appare che nella loro vanitate fuoro degnamente guiderondati si chiede allora innanzi non potero mirare persone che li guardasse sì che loro potesse trarre a simile intendimento onde io volendo che cotale desiderio malvagio e vana tentazione paresse distrutto sì che alcuno dubbio non potessero inducere le rimate parole che io avea dette dinanzi proposi di fare uno sonetto nel quale io comprendessi la sentenza di questa ragione e dissi allora lasso per forza di molti sospiri e dissi lasso in quanto mi vergognava di ciò che li miei occhi aveano così vaneggiato questo sonetto non divido però che assai lo manifesta la sua ragione lasso per forza di molti sospiri che nascono dei pensieri che sono nel cuore gli occhi sono vinti e non hanno valore di riguardar persona che li miri e fatti son che paion due disiri di lagrimare e dimostrar dolore e spesse volte piangon sì camore l'incertia di corona di martiri questi pensieri e li sospir chigitto diventano nel cor sì angosciosi camore vi tramortisce siliendole però che li hanno in lor li dolorosi quel dolce nome di madonna scritto e della morte sua molte parole